Tommaso Pellegrino, capogruppo di Italia Viva nel Consiglio regionale della Campania, ha presentato un'interrogazione a risposta scritta al fine di conoscere i provvedimenti che si intendono adottare per rimediare ai ritardi del programma Garanzia Giovani e le tempistiche con cui si prevede di erogare le mancate indennità. Con Garanzia Giovani, il programma europeo che favorisce l'avvicinamento dei giovani tra i 16 e i 35 anni al mercato del lavoro attraverso opportunità di orientamento e formazione, la regione Campania intende facilitare l'inserimento nel mondo lavorativo di giovani disoccupati mediante lo strumento del tirocinio. Numerosi sono i datori di lavoro pubblici e privati che, potendo ospitare un tirocinante, hanno aderito a tale programma e hanno presentato l'istanza di ammissione al contributo finanziario per il pagamento parziale delle indignità di partecipazione dei tirocinanti. A una commissione nominata il compito di valutare l'ammissibilità e la valutazione delle istanze presentate dai soggetti ospitanti entro 60 giorni dalla presentazione delle stesse. Ad oggi, nonostante i soggetti ospitanti abbiano rispettato le tempistiche e le modalità riportate nella misura di riferimento, non sono stati pubblicati gli elenchi degli ammessi e conseguentemente finanziati i progetti finora ammissibili. Nonostante il tempo trascorso, i possibili beneficiari delle indennità non hanno ricevuto i pagamenti con conseguenti notevoli disagi per i medesimi. Tutto ciò contrasta fortemente con lo spirito del progetto Garanzia Giovani, inteso quale strumento di garanzia per i giovani under 35, rendendolo poco concreto ed efficace. Conoscendo l'impegno e la grande sensibilità sui temi riguardanti la formazione e l'inserimento del mondo del lavoro dei giovani campani da parte del presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca e dell'assessore alla formazione professionale Armida Filippelli, sono convinto che arriveranno presto risposte concrete per i nostri giovani. Così sottolinea il consigliere Tommaso Pellegrino.